ciao ragazzi allora questo video come tutte le pagelle martedì ci saranno le pagelle cioè domani alle 8 ci saranno le pagella formula 1 domani intendo martedì questo video invece che il video delle pagelle di fiorentina juve esce lunedì mattina alle 8 le pagelle uscirono sempre alle 8 di mattina ok mentre gli altri due video usciranno alle 15 quello a tema prefissato e alle 23 quello libero ok perché alle 23 perché capita l'infra settimanale capita il mercoledì dico la serata di coppe le partite finiscono le 11 meno un quarto e alle 11 faccio il video ok alle 11 carico il video allora pagelle di fiorentina juventus scesni sei e mezzo due interventi nel primo tempo ma importanti devo dire quello sul tiro di nico gonzalez e quello sulla punizione di birachi nel secondo tempo ordinare amministrazione più che altro uscite e nulla più comunque sei e mezzo perché soprattutto la parata su birachi era una parata difficile diciamo sei e mezzo gatti voto 7 gatti voto 7 rischia praticamente zero molto efficace dietro tra i migliori in campo una certezza è chiaro che deve migliorare tecnicamente perché ancora molto grezzo molto irruento e soprattutto deve stare attento a fare meno deve giocare più pulito più pulito interesse deve essere meno scoordinato perché lui sembra falloso insomma lui è un po più scoordinato un po grezzo nei movimenti ed essendo che purtroppo a città laggiù come direbbe buonchino già gli stanno preparando la damnazio memoria lo stanno già timbrando quindi capisci già l'ammunizione che ha avuto non è l'ammunizione però si è stato ammonito in quanto gatti quindi fatti un esame di coscienza più pulizia degli interventi per il resto tutto molto bene voto 7 bremer voto 7 e mezzo una diga una diga a respinto di tutto e di più davvero bravo in crescita rugani 7 e mezzo anche lui anzi 8 meno più di che più di 7 e mezzo per quell'intervento nei minuti finali ad anticipare icone quello è stato un grandissimo intervento che valso il risultato bravo daniele finalmente questo ragazzo sta meritando perché sembra stato un ragazzo molto umile a me non è mai dispiaciuto come difensore è chiaro che non è barzaldi non è il miglior bonucci non è chiellini non è nesta né cannavalo però si sta rivelando quel difensore che a empoli tanto bene aveva fatto con sarri mi piace danielino rugani bene così beccherni 6 e mezzo molto bene in fase di copertura ha sofferto il giusto dalla sua parte in avanti un po impreciso ma è normale perché con tutto quel lavoraccio sulla fascia è normale per le lucidità ogni tanto però l'impegno la dedizione ha sbagliato qualcosa a inizio secondo tempo ma per il resto molto bene 6 e mezzo filippo kostic 6 più gli do 6 più per l'assist una partita da sufficienza niente più io è chiaro che gioca tutta fascia gioca più sacrificato però ha sofferto un po ha sofferto un po nico gonzalez anche per colpe non sue perché c'era il raddoppio che delle volte miretti non faceva poi è entrato cambiaso e nico gonzalez non è più stato pericoloso comunque una buona partita difensiva una partita di sacrificio gli cito 6 più è chiaro che mi aspetto di più da lui dal punto di vista tecnico ha fatto l'assist per questo becca il più per il questo è una partita della sufficienza rabbio 6 più anche lui una partita di sacrificio un po più della sufficienza perché è in crescita e si vede miretti miretti voto 6 e mezzo il gol una buona prestazione ma il gol speriamo che sblocchi perché questo ragazzo per me può crescere e tanto anche lui si ha fatto il gol però ha creato un po di difficoltà lui aveva il compito di raddoppiare su nico gonzalez in modo tale da risparmiare energia costic che andava in affanno difatti è stato ripreso da allegri più di una volta poi ha giocato in maniera un po più disciplinata poi la sostituzione con cambiaso e però sei e mezzo lo verità tutto moise ken a moise ken da un sei meno da un sei meno aveva cominciato bene poi se man mano spento dio colpe anche non sue perché tenevamo il barice entro basso si faticava a uscire anzi gli do sei perché ha fatto un paio di uscite dove mi è piaciuto la sufficienza del lato a moise 5 e mezzo a chiesa il meno brillante degli attaccanti oggi devo dire sapevo che avrebbe sofferto l'ambiente così come sapevo che l'avrebbe sofferto vlavic me l'immaginavo me l'aspettavo ci ho fatto un video in settimana 5 e mezzo l'unica occasione che ha avuto era anche fuori gioco l'ha tirata addosso a terra ciano quindi non una delle sue migliori partite però l'impegno c'è stato adesso vediamo i sostituti cambiaso sei più entra bene devo dire entrato lui svolge con diligenza il compito di limitare in coabitazione con costi di limita nico gonzalez il compito riesce bene buonissima una sua chiesa una una sua chiusura su buona buonaventura nel finale stato dirigente ha lottato un sei più lo merita decisamente lo merita decisamente sugli altri sostituti cambiaso veniamo ai due attaccanti entrati successivamente vlavic io a vlavic oddio ho sbagliato qualche controllo come al solito però è entrato più cazzuto di chiesa ci do un sei meno perché non prende la sufficienza piena però è stato presente ha provato l'anticipo su un paio di azioni un sei meno perché ha fatto meno di ken che non la sufficienza da prende ralauci da un sei meno giusto mi ha minich invece da un bel sei e mezzo da un bel sei e mezzo milich perché è entrato benissimo appena entrato lui la squadra si è alzata un po meglio teneva un po più palla su ha conquistato punizioni importanti ha spezzato il ritmo della fiorentina è inutile che io vi stia ripetere che il milich che arriva a napoli per me era meglio di Lewandowski tecnicamente era meglio di Lewandowski il milich che arriva prima di rompersi entrambi i crociati il primissimo milich di napoli per me era meglio di robert lewandowski è una mia fisima ma va così allora io vorrei anche allora mister allegri non gli do il voto lo sapete voi sapete che do il voto a mister allegri solo quanto è negativo voglio provare a dare qualche voto da questa partita l'avversario a qualche avversario allora terraciano 5 e mezzo adesso sono passato alla fiorentina terraciano 5 e mezzo il gol che prende sul suo palo non è una bellissima cosa quindi è l'episodio che ha deciso la partita quindi prende 5 e mezzo martine squarta 6 ha compito facile nel fermare un attacco praticamente nullo oggi quindi gli diamo la sufficienza sufficienza anche a ranieri perché è giusto che sia così a centro campo artur 5 e mezzo il solito artur lento lento buon piede ma molto lento un giocatore che a me ha deluso e tanto perché io credevo molto in artur davvero è ma deluso questioni fisiche anche 5 e mezzo quindi barack 6 io direi che ha fatto una buona partita ha fatto una buona partita devo dire no scusate martine squarta 5 e mezzo perché cicca clamorosa si perde miretti sul gol attenzione lo stavo dimenticando ranieri 6 non ricordo chi era a destra il laterale della fiorentina però a parisido a parisido 5 e mezzo anzi 5 perché il gol è prevalente l'azione del gol parte da un suo erroraccio quindi è giusto non dargli la sufficienza baracko dato 6 arturo dato 5 e mezzo nico gonzalez 6 e mezzo nettamente più pericoloso dei suoi nettamente più pericoloso dei suoi beltran 5 e mezzo si è visto poco poi si è anche fatto male dall'altro lato qua me invece do 6 molto attivo sulla sulla fascia sinistra devo dire zola 5 e mezzo lo temevo molto ha fatto pochissimo buonaventura 6 entra prova della sveglia la squadra ma poca roba però è sempre un giocatore pericoloso da tenere d'occhio naturalmente sottil 6 entra abbastanza bene entra abbastanza bene direi ha fatto un paio un paio di spunti interessanti nulla di eccezionale ma nulla di eccezionale ma a biraghi biraghi è vero l'altro l'altro terzino mi ero dimenticato l'altro terzino biraghi direi 6 e mezzo stato uno dei più proprio propositivi è quello che crea più grattacapi ascensi su quella punizione la quindi merita più della sufficienza icone senza voto secondo me entra troppo tardi icone e che è uno che temevo molto icone penso siano finiti vincenzo italiano voto 6 la sua una fiorentina che gioco un calcio molto propositivo deve registrare alcuni meccanismi in difesa perché ribadisco il gol che hanno preso non si può guardare non è un gol da squadra di serie a il gol che hanno preso noi quando parliamo di calcio lasciate perdere il discorso giochismo risultatismo perché non esiste tutti sono risultatisti c'è chi ci arriva in un modo ci prova di arrivarci in un modo e chi ci arriva in un altro vincenzo italiano è andato molto vicino a vincere due trofei che magari almeno uno dei due l'avrebbe meritato l'anno scorso vincenzo italiano però non ha vinto questi due trofei a causa della fase difensiva causa della fase difensiva perché ribadisco il gol che hanno preso non si può guardare la sbagliano in tre dice un triplo gravissimo errore difensivo il primo di parisi è vero era un adattato a destra però sei sul pallone in anticipo hai quell'esitazione che ti è fatale poi ti anticipa e mette la pala al centro martinez quarta che dorme su miretti e terraciano che piglia gol sul suo palo non si può guardare quel gol non si può sarò anche fissato con la serie a degli anni 70 degli anni 80 degli anni 90 un gol del genere non l'avrebbero mai preso e non dico la juve di baresi e il miran di baresi costa curta maldini l'inter di zenga bergo mi ferri o la juve di gentile cabri di scirea no l'avellino con disomma e cattaneo quel gol non l'avrebbe mai preso l'avellino il como con fontolan e non ricordo come si chiamava l'altro centrale con albiero e fontolan quel gol non l'avrebbe mai preso l'ascoli con boldini chi era l'altro difensore dell'ascoli non ricordo e gasparini quel gol non l'avrebbe mai preso ok vi dirò di più quel gol non l'avrebbe preso forse non l'avrebbe preso manco il foggia di zeman quel gol là perché lì c'è un triplo errore segno che non si insegna più a difendere bello il calcio spettacolo sapete di cos'è figlio questo calcio spettacolo? del fatto che ci sono 20 squadre con 3 sole retrocessioni di questo è figlio questo calcio spettacolo di questi allenatori perché a che posto è la Fiorentina? a che posto è il Sassuolo? a che posto è il Monza? sono 10, 11, 12 nell'A16 squadre eri in zona dovevi guardarti dietro perché eri in piena zona salvezza e dovevi badare la ciccia non potevi tanto filosofeggiare capito? quando la classifica inizia a scottare e no e lì te ne freghi dello spettacolo lì devi portare il culo a casa ecco perché per un apprezzabile gioco dalla cintola in su in difesa la Fiorentina non si può guardare non si può guardare quel gol non si può prendere io fossi italiano li appenderei al muro tutti e tre quel gol che hanno preso non esiste per il resto bella squadra bel calcio ci hanno messo in difficoltà allargandoci piazzando Quame da un lato e Nico Gonzalez dall'altro provando ad allargarci provando a costringere da un lato Rugani dall'altro Gatti a raddoppiare sulle ali per poi magari prendere di infilata l'unico difensore rimasto al centro ed ecco la mossa di Allegri prima con Miletti poi con Cambiasso Cambiasso ok l'arbitro un buon arbitraggio devo dire sei e mezzo forse come giustamente faceva notare Marelli mancava un cartellino a Nico Gonzalez e un cartellino eccessivo a Gatti però dai è stato un buon arbitraggio un arbitraggio costruttivo non alla maresca diciamolo un ottimo arbitraggio ha tenuto bene una partita veramente tosta e tenere un Fiorentina Juve vuol dire che sei un bravo arbitro ribadisco questo video per domani mattina lunedì mattina ore 8 iscrivetevi al canale e buonanotte grazie a tutti